L'anno scolastico è iniziato da poco ma qui alla Gangitano già ci sono delle iniziative di cui parlare, c'è stata una escursione ad Etnaland e c'è stata anche una vacanza bianca, quindi tante iniziative per gli studenti di questo istituto scolastico. Sì, sono delle attività progettuali finalizzate alla socializzazione dei ragazzi, la vacanza bianca ci sarà a gennaio per le seconde, invece ad Etnaland e per le prime è un'iniziativa che da qualche anno qua va avanti e serve a costruire l'empatia che è assolutamente necessaria per la comunicazione d'ogente e discente, sono delle esperienze bellissime, i ragazzi intanto conoscono gli insegnanti dall'altra parte della cattedra, non vedono questi insegnanti come degli esseri messi là a punire o a essere troppo cattedratici, quindi il rapporto diventa molto più flessibile, molto più tenero e perché ci riconoscono come mamme, come bambini, perché a Etnaland ci siamo anche bagnati nelle attrazioni che c'erano, perché abbiamo giocato con loro. Lei è stata in diverse scuole, ha girato molto adesso a Canichetti da qualche anno, insomma, è tornata a casa, però pensava, ecco una volta tornata a Canichetti, di fare una scivolata sulla nevo e di andare a Etnaland con i bambini. Allora, diciamo che la Canchitano l'ho trovata una scuola estremamente moderna, le attività diciamo programmatiche che si realizzano qua a quanto pare da diverso tempo, sicuramente hanno, come dire, hanno suscitato in me in primo momento una curiosità e poi anche, come dire, la consapevolezza che in realtà certe situazioni, con certe realtà come questa, veramente facilitano. Io, devo dire che, diciamo, le classi che mi hanno affidato tre prime, devo dire già da oggi, quindi a due giorni, diciamo, da questa attività, io vedo che mi seguono meglio, c'è un rapporto più familiare, più sereno, ecco, ed è quello che vogliamo, insomma, attraverso queste attività, favorire appunto il canale di comunicazione, quindi indenderci meglio.